Italia ha i primi posti della classifica dei paesi che nel 2012 hanno registrato i maggioramenti dei prezzi energetici pagati dalle famiglie. Secondo i dati di Eurostat, tra la seconda metà del 2011 e la seconda metà del 2012, le famiglie italiane hanno visto crescere la loro bolletta della luce dell'11,2%, uno dei maggiori aumenti registrati nell'UE e del 10,6% per il gas. In termini assoluti il prezzo dell'elettricità è salito a 23 euro per 100 kWh, nel resto del vecchio continente l'aumento è stato del 6,6% del 10,3% per il gas. L'incremento registrato in Italia è il terzo maggiore alle spalle di Cipro e Grecia, una situazione diametralmente opposta a quella della Svezia, dell'Ungheria e della Finlandia. Ma dove la bolletta elettrica è più leggera, la risposta è in Bulgaria, in Romania ed Estonia.